Musica Amici sportivi appassati di Palamano ben ritrovati nuovo appuntamento con Handball Mania ripartiamo dalla Serie A Gold che ha vissuto un turno l'ultimo, quello che abbiamo appena messo alle spalle di grande interesse perché grazie al successo ottenuto proprio sul filo di lana il Comersano è prepotentemente rientrato in corsa per la prima posizione al termine della regular season vediamo questo servizio e poi ne parleremo insieme con Alessandro Tarafino, tecnico campione d'Italia che si gode la vittoria proprio sul filo di lana ottenuta ai danni del Brixen vediamo il servizio non poteva che essere un episodio una grande giocata sul filo della sirena a decidere la partita più attesa del sabato di Serie A Gold la diciassettesima giornata riapre la lotta per il primato della regular season merito di Jakob Nelson e del Comersano che proprio grazie ad una bordata dello svedese al photo finish supera 23-22 il Brixen e costringe gli altoattesini alla prima sconfitta stagionale si ferma dunque la notevole serie positiva della squadra allenata da Davor Ciutura che conserva ugualmente il primato ma che nel contempo a questo punto spera in un aiuto da parte dei cugini Bolzanini proprio contro Conversano nel recupero programmato a febbraio tanto pubblico, due portieri in grande spolvero e una partita sempre aperta alla Palazzo San Giacomo c'è stato tutto sabato scorso con la promessa che tra Coppa Italia e playoff si possa vedere ancora molto nel frattempo in Puglia si godono il momento e sorridono Sì, Pablo ha fatto un buon lavoro prima per me è solo tiro come ogni attacco così quando lui fa un lavoro così bisogna solo tirare Il tour de force di Conversano non è finito però sabato c'è un antipasto dei Final 8 con la trasferta sul campo della Raimund Sassari anticipazione del quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena il 2 febbraio a Rimini bene i sardi intanto ad Imola 26-22 alla Romagna missione compiuta anche se per riacganciare la treno playoff servirà a vincere praticamente sempre e di fatto contro tutti anche perché davanti nessuno accenna a rallentare Merano batte 32-25 rubiera a domicilio e anche Fasano seppure faticando vince 29-28 sul campo del Fondi e conserva la quinta piazza occhio alla palestra Zizi sabato prossimo arriva Pressano, quinto e con un ritardo di due punti esatti rispetto ai bianco-azzurri all'andata vince Fasano di misura al Palavis il tenore del match non sarà differente L'importante erano i due punti perché non dobbiamo staccarci dalle quattro posizioni perché qui tutti corrono e quindi per ora va bene adesso pensiamo già alla partita di Pressano Chance intanto di riprendere a correre per la capolista Pressano è strafavorita nel match casalingo contro i giovani del Campus Italia torna in campo anche Bolzano primo impegno del 2023 per gli altoatesini che ricevono la visita di Carpi completa il programma la sfida della palatacca tra Cassano, Magnago e Siracusa interessante per entrambe con gli amaranto che guardano anche all'imminente impegno di Coppa Italia qui tutti corrono si sottolineava da Fasano ed è un assunto che assolutamente possiamo prendere in considerazione perché effettivamente insomma la lotta per l'accesso ai playoff scudetto è sempre più serrata non so se è dello stesso avviso anche Alessandro Tarafino coach del Conversano campione d'Italia in carica ciao intanto Alessandro grazie per aver accolto il nostro invito grazie a voi buon pomeriggio a tutti allora si corre tanto? ma si corre tanto sì tutte le squadre che stanno adesso nelle prime posizioni possono ambire a a un posto nei playoff e giustamente hanno tutte le carte in regola per entrare nelle prime quattro a fine stagione quindi giocarsela fino in fondo questo l'abbiamo detto già dall'inizio ma è proprio così è la verità tutte le partite quest'anno sono sono dure da giocare sia in trasferta che fuori e quindi sì si corre tanto bisogna stare sempre sul molto attenti ai passi falsi perché possono costare caro tutte le partite sono dure durissima è stata quella che hanno dato vita insomma Brixen e appunto conversano nello scorso turno partita bella incandescente grande pubblico davvero un grande spettacolo al Palazzo San Giacomo partita praticamente decisa proprio sulla sirena da Jacob Nelson ascoltavamo proprio nel servizio la sua dichiarazione dice quando Pablo prepara bene il tiro bisogna soltanto tirare io aggiungo e fare gol sì è un giocatore di sicuro affidamento aveva già risolto altre partite in passato ma proprio perché lui ha questa mentalità costante sempre presente sempre il massimo impegno ad ogni allenamento e ogni tiro di allenamento è sempre come fosse l'ultimo della partita questa cosa gli va dato merito e per questo poi alla fine risulta anche molto spesso decisivo poi per carità possono anche andare male delle volte le partite i tiri all'ultimo secondo non sempre vanno bene però è capitato è capitato neanche nell'ultima partita di Supercoppa dove Jacob è stato decisivo e poi direi aggiungerei anche tutta la squadra ha costruito bene l'azione e ha preparato bene il tiro per il suo compagno questo è anche fondamentale e l'ha detto lo stesso Jacob cosa ha detto invece la partita di sabato al Palazzo San Giacomo ad esempio che il Brixer merita la posizione occupata in classifica si è confermata squadra di grande valore dai grandi mezzi tecnici sì sicuramente Bressanone quest'anno sembra avere trovato la giusta intesa tra tutti i giocatori anche se anche loro hanno cambiato molto ma probabilmente hanno trovato i giusti tasselli da inserire in una squadra già collaudata e sono venuti a Conversano con anche qualche giocatore in meno nella rosa quindi hanno ancora altro potenziale da esprimere comunque è stata una partita combattuta anche in un certo senso anche da noi giocata molto bene per gran parte del tempo solo abbiamo avuto un calo nella parte centrale del secondo tempo che ci ha costato la rimonta e questo ci era accaduto anche in Supercoppa la stessa maniera eravamo in vantaggio di sei gol e poi e poi manca un po' di costanza nel rendimento un po' di tenuta forse mentale fisica e anche la bravura degli avversari che vogliono tornare ecco questo va dato merito sicuramente anche a Bressanone che non ha mollato mai e voleva fare risultato a Conversano vediamo intanto la classifica anche per riprendere un po' il discorso che facevamo proprio in apertura di collegamento con Alessandro Tarafino a proposito delle posizioni è vero che le prime quattro sono quattro squadre io insomma inserirei anche il Merano pronosticati alla vigia perché si attendeva un po' un upgrade del Merano di Prantene però attenzione perché alle spalle Pressano ma soprattutto Sassari con il nuovo Corso Zupo non credo che abbiano intenzione di insomma cedere così il passo o sbaglio Alessandro quindi la lotta per l'accesso ai playoff è ancora più ampia rispetto a quello che in questo momento sta dicendo la classifica sì sì le squadre sono separate da pochissimi punti ho detto bene prima basta un passo falso e possono tornare e guadagnare posizioni anche quelle che in questo momento stanno un po' indietro come hai detto tu Pressano Merano ma anche Bolzano Sassari sicuramente sono tutte squadre potenzialmente molto molto forti e anche loro adesso non ho ben presente il campionato nel gelone di ritorno ma dipenderà molto anche dagli scontri diretti che avremo e dalle partite fuori casa soprattutto ecco chiaramente gli scontri diretti potranno raccontare molte verità a proposito di questo campionato almeno per quanto concerne la post-season ma attenzione anche agli incroci con le squadre posizionate nella parte destra della classifica ad esempio Fasano ha rischiato grosso contro il Fondi Fondi è un po' una mina vagante di questo di questo campionato insomma al pari di Rubiera che ha già riservato brutti scherzi a qualche nobile del massimo campionato sì sì come ho detto fuori casa soprattutto sono molto temibili tutte le squadre nella singola partita direi che anche queste squadre che hai pronunciato tu possono ambire a vincere è chiaro che nel lungo periodo e questo la classifica è chiara in questo le squadre più attrezzate con la rosa più lunga poi emergono ma nella singola partita tutto può succedere questo sì può succedere di tutto vediamo cosa ci attende nel prossimo turno perché insomma bisogna come sottolineava anche coach Sarafino sempre stare sul pezzo non bisogna mai cedere il passo Cassano Magnago Siracusa occhio anche al Cassano quando parliamo di mine vaganti il Cassano Magnago è un'altra squadra sempre in vena di sorprese Bolzano Carpi e poi c'è Fondi Rubiera partita importante soprattutto per la parte bassa della classifica c'è un Sassa di Conversano che si presenta da solo con Fasano Pressano poi Brixen Campus Italia e Merano Romagna a chiudere il quadro ecco ti attende una trasferta importante contro un Sassari rigenerato dal nuovo Corso Zupo e con il dente avvelenato ovviamente per la sconfitta subita proprio nei secondi finali in Supercoppa Alessandro troverai un ambiente e troverete un ambiente molto caldo sì sicuramente Sassari è un avversario difficile per noi ostico soprattutto fuori casa giustamente hai detto che ha perso anche la Supercoppa con l'ultimo tiro anche lì agli ultimi minuto e quindi vorrà sicuramente rifarsi contro di noi e d'altra parte insomma noi siamo cerchiamo di arrivare il meglio possibile a questa partita anche perché poi lo rincontreremo in Coppa Italia quindi vogliamo vogliamo fare una buona partita e andare per giocarsi le nostre carte e come si sottolineava in precedenza nel servizio realizzato da Matteo da Monte Sassari deve recuperare il terreno perduto nella parte centrale della generale andata e non può permettersi passi falsi ogni partita può rivelarsi decisiva decisive sono anche voltando pagine preoccupandoci di quanto sta avvenendo in Europa in questo momento in Europa ma con uno sguardo ovviamente al mondo e al mondiale partite sempre molto tirate al di là insomma non voglio Alessandro che ti sbilanci in pronostici però cosa sta raccontando dal punto di vista tecnico tattico questo mondiale in corso di svolgimento in Svezia ma credo più o meno questi campionati sono molto dispendiosi in termini di energie fisiche mentali e anche lì vincono le squadre ma soprattutto anche le squadre in movimenti che hanno un bacino più ampio e alla fine arriveranno in fondo credo le solite le solite squadre tra virgolette che hanno più giocatori più possibilità di cambiare e di gestire le proprie energie perché sono tantissime partite tutte ad altissimo livello e se non hai questo alla fine non riesci a arrivare in fondo ecco l'unica cosa è questa e poi questa presenza sempre più decisiva determinante di portieri e di difese insomma mi sembra questa la nuova frontiera della palla a mano difese sempre più aggressive e portieri sempre più importanti determinanti poi anche nell'economia del risultato sì sì a livello tecnico sicuramente i portieri sono sempre stati molto incidenti come dire incisivi per i risultati le difese sicuramente si sono alzate molto sono sempre più profonde aggressive sui tiratori e si trovano infatti per questo anche giocatori di differente corporatura anche quelli un po' più piccoli ultimamente riescono a giocare meglio a infilarsi negli spazi sia davanti che anche dietro le difese ecco questo è anche l'idea del tiratore di due metri per cento chili è qualcosa che si aggiunge ma non si parte da quello ecco mi pare di capire giusto? sì sia del tiratore e anche dei pivot che anche loro sono molto mobili e molto dinamici sulla linea riescono a creare spazi per gli altri giocatori sempre si spostano al tempo giusto per lasciare l'uno contro uno o spazio per due contro due quello che è ai propri terzini questa è una cosa che ormai fanno tutte le squadre bene vediamo facciamo un attimo il punto sui mondiali poi le ultime considerazioni con Alessandro Tarafino le più forti ci sono tutte la Danimarca campione del mondo in carica la Svezia campione d'Europa e padrona di casa la Francia medaglia d'oro alle Olimpiadi e poi la Spagna sono loro le semifinaliste dei 28esimi campionati mondiali di Svezia e Polonia che si concluderanno il prossimo 29 gennaio a Stoccolma e proprio la Tele 2 Arena sarà lo spettacoloso teatro delle attesissime sfide di venerdì prima Danimarca-Spagna gara delle 18 seguita subito dopo alle 21 da una pazzesca Svezia-Francia pronostici assolutamente impossibili c'è una sicurezza però una soltanto entrambe le gare saranno raccontate in diretta sui Levesports che seguirà poi anche la finale assieme a Sky Sport Arena in diretta televisiva nella serata di domenica saranno due partite sportivamente folli senza mezzi termini solo la prima delle due ha una favorita se così si può dire i danesi non sono soltanto i campioni in carica ma hanno anche fin qui spazzato via già l'Egitto nella chiusura del main round e poi ieri l'Ungheria nel quarto di finale più scontato tra quelli andati in scena diverso molto diverso il modo in cui invece la Spagna ha eliminato la Norvegia praticamente fuori dal mondiale a tre secondi dal fischio conclusivo la squadra di Jordi Ribera ha vinto dopo due extra time chiudendo ancora una volta anzitempo la corsa di una Norvegia ambiziosa ma incompiuta dall'altra parte del tabellone c'è da mettersi positivamente le mani nei capelli la Svezia giocherà con il tutto esaurito sugli spalti e arriva da oro agli ultimi europei affidata anche questa volta alla leadership del suo centrale Jim Gottfriesen impressionante invece la quarta di finale giocato dalla Francia contro la Germania pari dopo la prima mezz'ora poi con un grande Desbonnet tra i pali e con l'esperienza dei trans alpini che è venuta fuori tedeschi annullati e gara condotta in porto anche se l'impressione è che in semifinale la storia sarà molto diversa insomma spettacolo come sempre in questi casi assicurato appuntamento su Eleven Sports alle 18 come detto con Danimarca Spagna e poi alle 21 con Svezia Francia Allora Alessandro in attesa di capire un po' quale sarà il quadro e soprattutto il nome delle due finaliste ti chiedo ritornando in Italia c'è il pericolo che questo turno di campionato il prossimo sia in qualche modo condizionato anche dal pensiero già rivolto alle finali di Coppa Italia che coinvolgeranno otto ovviamente delle 14 squadre del massimo campionato per quanto ci riguarda sì perché dovremo affrontare la stessa squadra e quindi ci sarà sicuramente un po' di pensiero ma non per quello che riguarda la partita in sé ma per sicuramente aspetti mentali che poi potremo riscontrare più nella seconda partita della Coppa però ecco il Sassari per noi è un impegno uno scontro diretto lo consideriamo come uno scontro diretto sicuramente quindi va preso come tale grazie Alessandro bocca al lupo grazie soprattutto per aver raccolto il nostro invito sempre un piacere ospitarti ciao Alessandro grazie bene un saluto ad Alessandro Tarafino ora ci fermiamo pochi istanti di pausa poi ritorniamo continuiamo a sfogliare il nostro magazine analizzeremo i temi emessi nell'ultimo turno della Serie A1 femminile Serie A1 femminile che osserva nel prossimo turno nel prossimo sabato un turno di riposo e dunque ci si prepara alle finaletti Coppa Italia a tra poco nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano ecco due settimane di torneo e tabelloni a 96 giocatori sarà un foro italico sempre più straordinario non puoi mancare compra subito il tuo biglietto seconda parte di Handball Mania ci occupiamo del massimo campionato femminile che dopo i tre turni del girone di ritorno osserva nella prossima weekend un turno di riposo spazio al campionato alla Iof League ne approfittiamo per fare un punto con Francesco Ancona tecnico della Iomi Salerno ciao Francesco grazie per aver raccolto il nostro invito ciao buongiorno a tutti Iomi Iomi Salerno reduce dall'importante successo ottenuto ad Erice sul campo della C Lifestyle Erice in quella che era la partita più attenzionata del secondo del turno appena archiviato vediamo insieme il servizio facciamo il punto Cassa Rurale Pontinia che guida sempre la classifica ma per saperne di più ascoltiamo Matteo Aldamonte adesso è lotta 2 la tredicesima vittoria consecutiva dalla Cassa Rurale Pontinia e in misura ancora maggiore il 27-20 con cui la Iomi Salerno espugna il Palacardella nello scontro diretto contro la C Lifestyle Erice riduce ad un duello tra Lazieli e Campana il discorso legato alla prima posizione in Serie A1 lo dicono i numeri emersi dopo la quattordicesima giornata l'ultima prima della pausa con il campionato che ripartirà il prossimo 11 febbraio dopo le finals di Coppa Italia nel match più importante Erice gioca la carta Karima Eko Franco Camerunenzi è arrivata in settimana e chiamata a trascinare la formazione guidata da Edina Borsos nel ricucire le gap in classifica Salerno però ha dalla sua esperienza lucidità attitudine delle sue giocatrici a gare dalla pallone pesante Salerno vince e bissa il successo dell'andata e genera uno strappo di 4 punti tra la sua seconda posizione e un terzo posto che nel frattempo diventa delle Brics & City Roll proprio le alto a tesire infatti confermano il loro momento di crescita e vincono 28-24 dal vanti al pubblico amico contro la Casa del Grande Padana primo tempo tutto appannaggio delle ragazze di Ubi Nessing che nella ripresa reggono al ritorno emiliano e conducono in porto la contesa confermando il loro momento di crescita possiamo migliorarci ancora tanto quindi dobbiamo cercare di continuare adesso questo percorso di migliorare Anna è arrivata due settimane fa quindi ha bisogno ancora un po' di tempo per entrare nella squadra così poi Esma sta tornando dal suo infortunio quindi penso che c'è tanto potenziale pronostici rispettati anche all'Estra Forum di Prato dove la cassa rurale Pontini allunga la sua notevole striscia di successi battendo la compagine di Casa del Tusce obiettivi diversi roster differenti e l'anziali troppo forti per la matricola toscana a centro classifica importante affermazione casalinga del Cassano Magnago 28-22 a Ferrara i due punti di rilievo per rincorrere l'obiettivo della salvezza diretta già al termine della regular season passo in avanti importante in quest'ottica anche quello compiuto da Padova nella delicata gara vinta sul campo di Mezzocorona affermazione netta delle patavine 36-27 dopo una partita in cui spiccano le 11 segnature di Vanessa Giogap in coda finalmente ecco la Libest Espresso Mestrino quattro mesi dopo la sua ultima e unica vittoria nella stagione la formazione veneta esulta contro la stessa avversaria che le aveva consegnato i primi due punti dell'anno la Starmed TMS Teramo ora fanalino di coda solitario e battuta 26-22 alla Palazza Nicolo adesso per le prime otto al termine dell'andata di Regular Season testa alla Coppa Italia appuntamento dal 2 al 5 febbraio all'RDS Stadium di Rimini il campionato ripartirà invece l'11 febbraio dalla sua quindicesima giornata Allora Francesco sottoscrivi quanto detto da Matteo Aldamonte nel servizio cioè il discorso prima posizione per la Regular Season è racchiuso soltanto a Pontini e Salerno le altre sono troppo staccate ma sicuramente Pontini e Salerno sono un po' più avvantaggiate rispetto a quello che diciamo il calendario non è facile recuperare 4-5 punti però io penso che non sia così importante la posizione che si raggiunge perché poi ai playoff comunque c'è da giocare quindi regna un equilibrio importante che potrà essere anche diciamo che potrà anche stravolgere la classifica iniziale Ecco allora se la legge ci propone la classifica volendo allargare il discorso se insomma la lotta per la prima posizione potrebbe essere in qualche modo aperta a soltanto due squadre con le altre un po' attardate credo che a maggior ragione il discorso playoff ormai si è abbastanza segnato anche perché insomma il distacco di 4 punti tra Erice e Cassano Magnaco per quanto non diciamo così enorme e quindi colmabile da un punto di vista teorico dal punto di vista tecnico anche in considerazione degli ultimi movimenti di mercato dell'Erice mi sembra abbastanza importante sì anche perché se consideriamo che l'Erice ha diciamo comunque a livello di organico quelle sono le squadre che sono partite con i favori del pronostico penso che alla fine stanno dimostrando che sono le squadre che come valore meritano più i playoff quindi non credo che ci saranno sorprese fino alla fine della regola del season senti invece è stata una sorpresa assolutamente sei libero di smentirmi la vittoria della Iomi Salerno sul campo della Cilaf Style Handball Erice quella dello scorso turno ah no secondo me era una partita con il pronostico aperto noi siamo andati a sul campo dell'Erice per cercare di portare a casa i due punti ci siamo riusciti però sicuramente poteva esserci anche un altro risultato senti c'è stata tanta curiosità intorno al tuo arrivo alla guida sulla panchina di una squadra femminile dopo aver gestito per anni spogliatori maschili aver vinto tanto con la Junior Fasano ecco a distanza di qualche mese ormai dal tuo approdo nell'altra metà del cielo quali sono le tue sensazioni ma ci sono le sensazioni sono positive nel senso che mi sto comunque trovando bene ovviamente c'è è tutto molto diverso rispetto alla maschile ma tutto il contesto un po' cambia più a livello di gestione però sono soddisfatto perché comunque le ragazze almeno fino ad ora mi seguono e quindi ci si può lavorare con molta tranquillità cercando di dare più possibile alla squadra assolutamente è chiaro che insomma chiederò anche una tua opinione a proposito del settore maschile insomma avendo conoscenza dell'oggetto perché ora apriamo una parentesi sulla final eight di Coppa Italia ricordiamo settimana prossima dal 2 al 5 febbraio all'RDS Stadium di Rimini le final eight di Coppa Italia si viaggerà a ritmo di quattro partite al giorno da giovedì fino a sabato poi domenica mattina le due finali in diretta a Sky 11.30 la finale femminile 13.30 la finale maschile tutta la manifestazione sarà seguita in diretta da Eleven Sport ieri conferenza stampa di presentazione a Rimini alla presenza della regione Emilia Romagna del comune di Rimini e ovviamente della FGH rappresentata nella circostanza dal vice presidente Gianni Censi diamo il servizio e poi ne discutiamo con il tecnico della IOMI Francesco Ancona siamo veramente contenti di partire per questa nuova avventura il territorio gli enti pubblici ci sostengono in maniera considerevole quindi non vediamo l'ora ecco di portare a casa questo evento e di far vedere la qualità l'evoluzione che ha fatto il nostro movimento in questi anni il fatto di avere una garanzia pluriennale per mettere in piedi eventi di questo genere per migliorarli di anno in anno è sicuramente dettata proprio da questo da questa grande collaborazione direi che per la Palamano per gli intenti di questa federazione avere dei partner così importanti ha sicuramente un valore aggiunto e ci permetterà di dimostrare sempre di più il valore del nostro sport ed allora Coppa Italia Final 8 Francesco insomma quest'anno ha 16 squadre ancora più ricca sarà veramente un momento di comunione insomma di tutto il movimento parlamanistico italiano è una formula che in questi anni ha riscosso tanto successo ed è giusto dunque riproporla è un momento di grande comunione di grande incontro tra settore maschile e settore femminile scambio di idee di opinioni tante partite da seguire sì è una formula che comunque diciamo dà una certa immagine anche alla Palamano permette anche di come hai detto bene di riunire un po' tutti quindi un po' tutti si incontrano nello stesso luogo per affrontare queste finali è una una competizione a parte perché ovviamente chi vuole arrivare in fondo deve mettercela veramente tutta perché ci vuole anche una buona dose di fortuna per arrivare in fondo per arrivare nelle migliori condizioni quindi è una competizione particolare l'ho vissuta più volte in ambito maschile e so cosa vuol dire arrivare in fondo e anche vincere questa competizione diciamo che chi arriva e vince comunque esce con le ossa rotte è vero insomma perché poi sono tante partite le squadre che arrivano in finale avranno giocato al netto della finale tre partite in quattro giorni e tre partite davvero molto dure come giustamente sottolineavi chi vince e comunque le quattro finaliste escono lì da questo vero e proprio tour de force con le ossa rotte ma probabilmente almeno per le squadre vincitrici con tanta gioia e tanta soddisfazione allora vediamo il tabellone intanto della femminile quella che direttamente interessa Francesco Ancona Iomi che affronterà Ferrara nella nella nel turno inaugurale diciamo che i quarti di finale in considerazione anche un po' di quella che è stata la classifica maturata al tema di gioia andata hanno delle favorite indubbiamente che sono poi le quattro squadre che sono anche ai primi quattro posti della classifica generale hanno sicuramente non ci nascondiamo e ci sono quattro favorite sono le prime quattro in classifica però bisogna affrontare questi quarti con la massima concentrazione perché appunto le squadre soprattutto le squadre non favorite non hanno nulla da perdere quindi partita secca daranno tutto per poter per poter fare lo sgarro alle squadre favorite quindi massima concentrazione per cercare di arrivare anche tranquillamente nelle semifinali altrettanto non credo si possa dire per il settore maschile no perché per esempio nei quarti di finale c'è un conversano Sassari che è tutt'altro che partita dal pronostico scontato così come dimostrato anche dalla supercoppa si sono già trovate le due squadre di Tarafino e di Zupo si ritroveranno sabato manco a farla apposta in campionato e poi ancora in Coppa Italia qui mi pare che è ancora più difficile sbilanciarsi in pronostici Francesco vediamo intanto il quadro completo il tabellone della final et maschile sì in Coppa Italia maschile la situazione cambia perché sono tutte sono tutti quarti dai finali incerti molto equilibrata ma è diciamo poi lo dice il campionato c'è un range di squadre di 6 7 squadre che comunque si stanno giocando i playoff quindi la stessa cosa poi è riportata in Coppa Italia direi che sono almeno 3 ma direi anche 4 quarti dal finale incerto e questo non può che essere una cosa positiva per la manifestazione ecco sarai spettatore interessato ovviamente della final 8 maschile anche se i tuoi pensieri saranno rivolti a ciò che accade nell'altro tabellone te la senti almeno per il settore maschile di sbilanciarti in un pronostico non la vincitrice ma almeno le due finaliste ma dico no perché è veramente incerto cioè ci sono tante squadre che possono dire che magari ad inizio stagione sicuramente ci sono un paio di squadre due o tre squadre che sono partite con i favori del pronostico e si sanno Bressanone con Bressano e Sassari sono partite con un qualcosina in più però questa prima parte ha dimostrato che ciò che sembrava sulla carta non è poi diciamo quello che la classifica almeno fino a questo punto dimostra quindi non mi sento di fare nessun tipo di pronostico anche perché ripeto probabilmente in campionato la situazione può essere diversa ma in Coppa Italia con queste tre partite consecutive diventa veramente un'incognita Bene grazie grazie a Francesco Ancona in bocca al lupo a te alla Iomini di Salerno ci ritroveremo ovviamente a Rimini per le finalette di Coppa Italia grazie ancora a Francesco Ancona grazie per aver raccolto il nostro invito grazie a voi ciao Francesco bene è tutto è tutto per questo numero questo appuntamento di Handball Mania settimana prossima ci ritroveremo mercoledì dall'RDS Stadium alla vigilia proprio dell'avvio dell'inizio della finalette per insomma in qualche modo fare il punto su quanto accadrà e tanto accadrà nei prossimi giorni nella prossima settimana in Emilia Romagna a Rimini sede quest'anno e per quest'anno e anche per il prossimo della finalette di Coppa Italia grazie per la cortese attenzione buona pallamano a tutti arrivederci in hai